Proloquo degli E' sempre Proprattiva con la festa d'autunno? Sì, ci siamo giunti anche quest'anno, alla prima domenica di ogni anno, anche quest'anno abbiamo rispettato la tradizione, quindi la nostra festa d'autunno è pronta, come potete ben vedere siamo ben organizzati e prossimi a ricevere i nostri visitatori. Momento clou della festa, la camminata? Sì, questo è un percorso che è già partito, un bel percorso, è stato tracciato proprio questi giorni, il tempo ci accompagna e siamo di sicuro contenti che i camminatori si troveranno molto bene. Sette chilometri per conoscere le bellezze e le peculiarità di Aglie? Sì, proprio come tale, è una passeggiata veramente tranquilla, fatta per le famiglie e questi sette chilometri danno un contributo stesso a chi comunque viene a visitare il nostro parco e in un ultimo conclude con il nostro borgo. Non potevano certo mancare le bancarelle con i produttori, la street band e le macchine d'epoca? Sì, queste macchine d'epoca e i trattorini, insomma, vecchi trattori d'epoca danno colore, arricchiranno ovviamente la nostra piazza Castello, le bancarelle continuano a dare il loro contributo con i prodotti tipici, tipici locali, insomma, e la street band nel pomeriggio darà di sicuro, insomma, allegria per tutto il borgo di Aglie. Felici di ricevervi la prossima edizione che sarà la numero 7 ed è la prima domenica di ottobre. Felice di ricevervi la prossima ed è la prima domenica di ottobre. Felice di ricevervi la prossima ed è la prima domenica di ottobre.